Resta alta l'attenzione verso l'ambiente, domani appuntamento con la manifestazione contro il riscaldamento globale ma anche con Puliamo il mondo di Lega Ambiente che coinvolge 800 studenti. Un'iniziativa che proseguirà anche durante l'anno, che coinvolge i comuni di Piacenza, Gazzano, Bobbio, Cassa San Giovanni, Gazzola, Podenzano, Rivergaro, Rottofreno, Sarmato e Monticelli. Produciamo ancora troppi rifiuti ma di contro la raccolta differenziata ha fatto un notevole balzo in avanti nel 2018 attestandosi al 68,79% per la provincia e 65,79% per Piacenza Capoluogo. Sette comuni sono oltre l'80% con San Giorgio e Podenzano alle soglie del 90%. 32 comuni hanno superato, sono ad un passo dal famoso 73% obiettivo previsto dalla regione alla fine del 2020. Lo scorso anno abbiamo avuto, nel 2018 abbiamo avuto un aumento notevole, importante di quel che riguarda la raccolta differenziata anche se abbiamo sempre il problema di aumentare la produzione dei rifiuti che dovrebbe essere invece diminuita. Siamo con 8 per esempio comuni della provincia che hanno già raggiunto l'80% di raccolta differenziata e due comuni, Podenzano e San Giorgio, che sono due passi dal 90%. Quindi stiamo parlando di momenti importanti quando si diceva che non si poteva arrivare, abbiamo la possibilità di arrivare, questo è un obiettivo al 100% di raccolta differenziata e quindi in qualche modo non avere più bisogno di né di discariche né di impianti di incenerimento che creano grossi problemi alla salute e alla sicurezza dei cittadini. Grazie. Grazie. Grazie.